È un messaggio alle famiglie cristiane del mondo chiamate ad essere chiesa domestica. Lo si legge chiaramente nel testo, votato all'arca maggioranza dal sinodo sulla famiglia e presentato in sala stampa vaticana. In un linguaggio chiaro si evidenziano, ha detto il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente della commissione per il messaggio, le ombre e le luci della famiglia di oggi. Ci sono le sfide all'amore coniugale che mettono in crisi le unioni, fallimenti che poi danno origine a nuove relazioni, creando situazioni complesse e problematiche. C'è poi la fatica della vita, la malattia, la precarietà lavorativa, il dramma dei profughi, la violenza sulle donne, quella sui bambini da parte di chi li avrebbe dovuti custodire. Per questo nel messaggio è contenuto l'appello ai governi e alle organizzazioni internazionali a promuovere i diritti della famiglia per il bene comune. Eppure ci sono tante luci di unioni indissolubili, uno dei miracoli più belli, di chi educa la santità ogni giorno, grazie anche ai nonni e chi si dona per gli ultimi. Un percorso che trova nell'eucaristia il vertice della comunione con Dio e con il prossimo. Così, nel messaggio, si legge che si è riflettuto sull'accompagnamento pastorale e sui sacramenti divorziati e risposati. La Chiesa dunque si presenta come una casa, con la porta sempre aperta. Indubbiamente la Chiesa, per quanto riguarda queste questioni di ogni genere, io direi, deve prima di tutto accogliere. E quindi essere pronta a sentire, essere pronta a vedere, essere pronta anche a comprendere i mutamenti stessi della società. Però dall'altra parte la Chiesa ha una sua identità, ha un suo messaggio, ha una sua concezione. E questa concezione che gli permette di essere, di accogliere, di rispettare, di avere tutte le attenzioni, cose che qualche volta in passato forse non si faceva, non vuol dire però automaticamente riconoscere modelli che siano totalmente differenti.